premesso che al monterisi per nera tradizione oggettiva forza dell'avversario perdere ci sta così proprio no non va bene è vero che il calcio scienza esatta non è e quindi nulla di quel che viene ponzato sulla lavagna poi si invera sul prato però la sfida al cerignola proprio per il suo divenire imprevedibile certo ma tutt'altro che terribile non doveva avere l'epilogo disastroso che ha avuto ancora una volta mister nicola ragno si affida la difesa over competta siri e colella protezione di figliola accanto al playmaker capece piazza sorpresa caruso e davanti sfoggia addirittura il bidente genchi lattanzio pazienza risponde con chironi fra i pali navigati alle grini a campo raggestire il reparto arretrato scuderi e verde appungere sulle corsie laterali e conti ad inventare per malcore meno di 10 minuti ed un indemoniato triarico scodella dalla destra silletti si rifugia in corner don del 7 nero verde calcerà direttamente sull'esterno della rete registrati due gialli per altrettanti difensori cioè a campora e colella uno per parte occasioni per il giallo blu con scuderi che carezza il palo al ventesimo due minuti dopo un piazzato di malcore viene murato dalla barriera ospite 60 secondi ed ecco l'episodio che poteva spaccare il match per i bitontini e invece no anzi sempre il 5 di casa stoltamente in palla il portiere nero verde che stava per inviare ammonizione bis e doccia anticipata insomma archiviato un tempo fatto di schermaglie studiate ed equilibrate la ripresa un avvio ad un subito sfolgorante verde si invola verso figliola e conclude ma al destro d'inutile esterno un istante dopo imperversa ancora triarico che crossa chirurgico per l'incornata di genchi prodigio di chironi pure sul colpo ravvicinato di piarulli infine la punta barese in sacca minuto 8 trina lucente di passaggi fra i medesimi protagonisti e botta dell'attaccante che si infrange sul legno quando ci si aspetta che i leoni facciano un sol boccone delle cicogne ferite ecco la riscossa dei padroni di casa al 37esimo rete del pareggio annullata per fuorigioco quattro primi e la capocciata di un già devastante amoabenga arpiona l'uno a uno al sesto del recupero poi è de cristofaro a firmare il meritato successo degli ofantini che non per caso sono nomati audaci e la mara beffa è tutta per gli uomini di ragno tre punti e forse un pizzico di orgoglio persi in terradauna grazie